Quando dico Berenson, dico un suono. Berenson. Come a dire figlio di Beren? Chissà quanti possono conoscere Berenson. Io lo conoscevo abbastanza bene, tanti anni fa. Eppure quello che mi è rimasto più nella memoria è una confusione di nomi tra Berenson e Barenson. Chi è Barenson? Possiamo partire proprio da lui. Giorgio, mi pare che si chiamasse Barenson, era un famoso cronista sportivo nell'Italia degli anni 70, quindi un personaggio legato alla televisione bianco e nero. Eppure quando tanti anni fa andai a trovare le lettere di Roberto Longhi, o meglio, le lettere di Bernard Berenson a Roberto Longhi, la persona che le teneva mi disse queste sono le lettere di Barenson, queste sono le lettere di Barenson. E io sorridevo. Mi sembrava così strano che si potesse equivocare su quel nome. Allora ne parlai con un amico e mi disse ma sì, certo, quel signore non intende Berenson, intende Barenson e mi spiegò chi era Barenson. Ma perché dopo tanti anni mi è rimasto in mente questo? Perché voglio partire proprio da questo suono? Perché penso che quando io comunico, comunico prevalentemente un suono, non comunico delle cose. Non posso certo presumere di aver conosciuto una persona che è morta prima che io nascessi. E non posso credere che attraverso i caratteri stampati nei suoi libri o manoscritti me le sue lettere, qualcosa di suo sia entrato dentro di me. Posso solo parlare di fantasmi se dovessi usare delle parole più comuni. Quindi del fantasma di Barenson, appunto Barenson. Ma Barenson, se guardate qualunque informazione su di lui, non era il vero nome di questo signore. Aveva un altro nome più complesso che ora non ricordo, ma non credo ci sia bisogno di ricordarlo. È più importante sapere che una volta gli ebrei dovevano cambiare nome. Grazie a tutti.